Molise, zona rossa, da lunedì le restrizioni. La decisione dopo la richiesta di Toma e l'analisi dei dati del monitoraggio. Limitazioni per spostamenti in scuola e per le attività commerciali. Si è in attesa del nuovo DPCM di Draghi. Al via prenotazioni vaccini a insegnanti e forze dell'ordine. Sono in corso le somministrazioni agli ultraottantenni in attesa di un'accelerazione. Intanto sulla piattaforma dedicata, personale scolastico delle forze dell'ordine può dare l'adessione a vaccinarsi. Operazione piazza pulita al via maxiudienza preliminare. 45 imputati davanti al GUP in tribunale a campo basso con misure di sicurezza molto stringenti. Disposti schermi in due aule e utilizzato anche l'atrio. Diverse le eccezioni dei difensori. Inquinamento venafro, dati allarmanti. A fine 2020 battuti tutti i record per le polveri sottili. Il monitoraggio per il mese di febbraio dà un quadro ancora più preoccupante con valori oltre la soglia. Campobasso domani arriva il Castelfidardo. Ancora una gara interna per il Rosso Blu. L'Agnone ospite della vice capolista Notaresco. Al Ferrante va in scena Matese e Montegiorgio per il passo girati. Sosta forzata. Buongiorno, benvenuti alla seconda edizione del telegiornale che apriamo parlando del ritorno del lockdown in Molise. Proprio nel giorno in cui l'indice RT è tornato a scendere, come pure il tasso di positività, è arrivata la conferma della zona rossa che scatterà lunedì con nuove chiusure e restrizioni. Ci dice di più in questo servizio Enzo Luongo. L'annuncio ufficiale è arrivato a metà pomeriggio. Dopo la richiesta del presidente della regione Toma, il Ministero della Salute dichiara il Molise zona rossa. È il direttore della prevenzione del Ministero Gianni Rezza a dare conferma durante la settimanale conferenza stampa per il monitoraggio dei dati. Molise, anche dai dati della Flash Survey, ma anche valutando quella che era l'altra incidenza, avevamo avuto un contatto io stesso con la regione Molise almeno un paio di settimane fa per chiedere chiaramente una valutazione approfondita della situazione perché l'incidenza sembrava particolarmente elevata soprattutto verso la costa, l'area di Termoli. La regione Molise adesso ci ha contattato e effettivamente ha espresso la volontà o perlomeno di considerare l'opportunità di andare in zona rossa e chiaramente in questi casi non possiamo che accogliere questa richiesta. La regione dunque passa dall'arancione al rosso per una richiesta partita dalla regione stessa e questo avviene proprio nel giorno in cui l'indice RT è in calo. Quello molisano passa da 1,4, una settimana fa era il più alto d'Italia, a 1,1 mentre quello nazionale è di poco al di sotto 0,99. Restano le criticità dovute alla carenza di posti di terapia intensiva e soprattutto i focolai di variante inglese come ha sottolineato lo stesso Rezza. Ci sono alcune regioni come Molise e Basilicata che effettivamente questa settimana stanno molto molto alte. Molise ha dei focolai piuttosto importanti, molto rilevanti, attribuibili alla variante inglese. Un anno dopo dunque il Molise ripiomba nel lockdown. Ecco le nuove regole che stanno per entrare in vigore. In zona rossa non è consentito muoversi anche all'interno del proprio comune. Si può solo uscire per motivi di lavoro, urgenza o salute e per giustificarlo serve l'autocertificazione. Bar e ristoranti sono chiusi, possibile solo la vendita da asporto e la consegna a domicilio. I negozi sono chiusi, restano aperti solo le farmacie e i punti vendita di beni di prima necessità. Aperti anche parrucchieri e estetisti. Per quest'ultima categoria è una novità di queste ore. È stato infatti accolto dal TAR un ricorso contro le chiusure presentato da Confestetica. Per quanto riguarda la scuola, didattica a distanza dalla seconda media in su in presenza al di sotto. Fanno eccezione ovviamente tutti i comuni e in Molise sono diversi dove i sindaci hanno disposto la chiusura totale. Questa dunque è la situazione in Molise a partire da lunedì. Ma si attende il nuovo DPCM di Draghi che dalla 6 marzo potrebbe contenere maggiori restrizioni per le zone rosse per quanto riguarda gli spostamenti, per le visite all'interno dei comuni, per la scuola con la sospensione della didattica in presenza per tutti e per quanto riguarda altre attività commerciali che potrebbero rimanere chiuse. E siamo adesso all'aggiornamento sui dati Covid. Ancora un decesso nelle ultime ore in Molise. Si tratta di un 65enne di Colle d'Anchise deceduto in terapia intensiva del Cardarelli dove era ricoverato da giorni. Il bollettino dell'ASLEM parla di 7 nuovi ricoveri di cui 5 in malattie infettive e 1 in terapia subintensiva del Cardarelli. 5 i pazienti trasferiti all'interno delle strutture sanitarie regionali mentre un altro malato è stato trasferito con un elicottero dell'aeronautica militare a Roma. Sono 64 i positivi su 767 tamponi processati. Solo Termoli registra un numero ancora elevato nonostante sia zona rossa, cioè 20 positivi. E poi ci sono 75 guariti. Si allenta la pressione sul Cardarelli dove sono ricoverati in 79 di cui 66 in malattie infettive e 13 in terapia intensiva. 350 le vittime mentre le persone guarite in totale sono 8.438. E Telemolise si stringe al dolore che ha colpito il nostro tecnico Francesco Di Rienzo che purtroppo ha perso il papà Antonio ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid. A Francesco, alla mamma, alla signora Stella e alle sorelle Carola e Gloria giungano le condoglianze della vicinanza del nostro editore Quintino Vallante, del direttore Emanuela Petescia e di tutto lo staff di Telemolise. Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha chiesto screening di massa alle aziende del polo industriale. Il presidente del COSIB, Roberto Di Pardo, ha raccolto l'appello e ha invitato i direttori delle fabbriche a rafforzare le misure di sicurezza. Intanto in diversi centri del Basso Molise continuano le iniziative di prevenzione in drive-thru. Il servizio è di Andrea Nasillo. Rafforzare i presidi e le misure di sicurezza per i lavoratori delle fabbriche del nucleo di Termoli. Attivare anche e subito gli screening di massa. Queste richieste sono arrivate direttamente dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti, sul tavolo del presidente del COSIB, Roberto Di Pardo, che ha raccolto l'appello e ha scritto ai direttori delle numerose aziende appartenenti al consorzio. Il virus continua a correre, l'andamento del contagio va rallentato, i numeri restano preoccupanti. Il COSIB, fa sapere Di Pardo, ha già da tempo individuato, infatti nello screening a cadenza quindicinale, una strategia di contenimento efficace. Lo screening dei propri dipendenti, il presidente del COSIB si rivolge alle aziende, risulta necessario a completare il quadro dello stato dei contagi del territorio. Nella FCA di Termoli, la più grande azienda del polo industriale, i contagi rispetto alla settimana scorsa sono scesi di sole quattro unità, da 44 a 40 positivi. Da 42 a 34 il numero di dipendenti in quarantena precauzionale. Come atto preventivo l'orario di mensa è stato spostato a fine turno, in tal modo c'è chi sceglie di mangiare al rientro a casa, evitando rischi di assembramenti. Chiusi in via precauzionale, spogliatoie docce e nei weekend aumentate le procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro. L'amministrazione comunale di Termoli, come annunciato, avvierà nei prossimi giorni lo screening volontario e gratuito per i cittadini, iniziative già in atto in diversi centri del Basso Molise. A Guglionesi oltre mille tamponi effettuati da mercoledì a questa mattina. Nei prossimi giorni, ha detto il sindaco Mario Bellotti, screening sulla popolazione scolastica di 500 persone circa. Sempre in modalità drive-thru, controllo di massa anche a Petacciato a partire da oggi e a Casa Calenda nella giornata di domani, grazie all'iniziativa offerta dalla consigliera regionale Aida Romagnolo. Screening anche a Portocannone e Larino, nel centro frentano test antigenici rapidi al terminal degli autobus. Due le modalità di accesso all'area prelievi, sia in auto che a piedi, così come a Santa Croce, nelle giornate di oggi e domani. I sindaci raccomandano ordine e disciplina. Il sindaco di matrice Arcangelo Lariccia, in considerazione delle nuove disposizioni e con propria ordinanza, ha deciso l'ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza nella scuola primaria del Paese fino al 14 marzo. Va avanti, seppur a rilento, la campagna vaccinale. Mentre sono in corso le vaccinazioni per gli over 80, da oggi sono aperte le prenotazioni per quelle riservate al personale scolastico, universitario e delle forze dell'ordine. Intanto i sindacati della scuola chiedono che tutto il personale venga vaccinato prima della riapertura delle scuole, che al momento, hanno detto, non garantiscono lezioni in presenza in sicurezza. Ce ne parla Anna Maria Di Matteo. Prosegue seppur a rilento la campagna vaccinale in Molise. Il primo step ha riguardato il personale degli ospedali e delle case di riposo, successivamente gli over 80. Attualmente le dosi somministrate sono quelle prodotte da Pfizer-BioNTech. Intanto, da oggi è possibile prenotare il vaccino per il personale delle forze armate e di polizia e per quello scolastico e universitario. Le dosi somministrate sono quelle prodotte da AstraZeneca. La fascia d'età è quella che va da 18 ai 65 anni. Per il personale docente e non docente della scuola e dell'università, le prenotazioni sono scaglionate per fasce d'età. Il calendario è il seguente. Dei 18 ai 55 anni non studenti, da oggi, dai 56 ai 65 anni, il servizio è in fase di attivazione. Stesso discorso per il personale delle forze dell'ordine. Per prenotarsi dovranno essere eseguite le stesse procedure previste per le vaccinazioni degli over 80, collegandosi al sito adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it. Nel momento in cui sarà somministrata la prima dose del vaccino, sarà comunicata anche la data del richiamo. Intanto i sindacati di categoria della scuola hanno espresso soddisfazione per l'avvio della campagna vaccinale per il personale scolastico. Chiediamo di inserire anche il personale residente fuori dal Molise, ma in servizio nelle nostre scuole, tutti i precari, anche quelli che lavorano con i contratti covid, il personale delle mense, gli assistenti alla comunicazione e i tirocinanti, hanno ricordato i sindacati. È necessario inoltre tenere in considerazione alcune priorità, come quella relativa ai lavoratori fragili. Vista la gravità del quadro epidemiologico, l'alto numero dei contagi, la presenza di varianti e la zona rossa, riteniamo prioritario procedere con urgenza all'attuazione della campagna vaccinale. Solo dopo si potrà pensare a tornare davvero in presenza, hanno aggiunto. Nel contesto attuale mancano in tutta la regione i presupposti per poter lavorare e studiare in sicurezza. Sono necessari i provvedimenti immediati per evitare che la situazione precipiti ulteriormente, ponendo a serio rischio i lavoratori e gli studenti. Vigileremo sul corretto svolgimento della campagna vaccinale, hanno concluso i sindacati di categoria. Diventa estremamente importante la spinta in avanti che deve essere data per favorire una campagna vaccinale sul territorio più diffusa e capace di procedere seguendo modi e tempi adeguati. Così il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, che ritiene determinante un'azione da parte dei vertici dell'azienda sanitaria, anche a livello informativo e di comunicazione. L'amministrazione ha già dato la piena disponibilità ad Asrem e Regione degli spazi della cittadella dell'economia per far sì che possano essere utilizzati come centro vaccinale, non solo a favore dei cittadini campobassani, ma di quelli dell'intera regione. Ci preoccuperemo noi come Comune anche di realizzare i lavori ritenuti necessari per rendere i locali efficienti, ma ha sottolineato il sindaco, ci aspettiamo che ora non ci siano più tentamenti su questo tema e la convocazione della conferenza dei sindaci, come precedentemente richiesto. Emergenza, pandemia ancora. È finita in Parlamento la vicenda delle messe vietate ad Agnone e Belmonte del Stannio per evitare i contagi in chiesa. Un deputato leghista ha preannunciato la sua interrogazione al ministro degli interni. Ci racconta tutto. Enzo Di Gaetano. Messe vietate in Alto Molise, il caso finisce in Parlamento. Come è noto per ostacolare la diffusione del contagio da coronavirus, in due comuni è stata vietata la partecipazione dei fedeli alle funzioni religiose. Così il vice caporuppo della Lega alla Camera dei Deputati, Alessandro Pagano, un deputato siciliano che si autodefinisce un ultra del cattolicesimo radicale, ha annunciato una sua interrogazione al ministro dell'interno Lamorgese, avente ad oggetto le singolari ordinanze con le quali alcuni sindaci dell'Alto Molise, Daniele Saia di Agnone e Anita di Primio di Belmonte, hanno vietato le celebrazioni eucaristiche e le funzioni religiose ai fedeli. È un atto gravissimo che comprova una sola cosa, un odio ideologico e uno spirito antireligioso assolutamente insopportabile, un'offensiva alla libertà di culto dei fedeli, afferma il leghista Alessandro Pagano. È un attacco alla Costituzione e agli accordi Stato-Chiesa che tutelano espressamente questo diritto e che nessuna autorità civile può scardinare, men che meno, qualche arbitraria decisione di qualche sindaco privo di argomentazioni visto che non ci sono dati concreti. La prevenzione nelle chiese è superiore a tutte le altre attività e con buona pace di questi sindaci non c'è una decisione a riguardo da parte del Governo Nazionale, continua Pagano, che presenterà nelle prossime ore un'interrogazione al Ministro degli Interni Lamorgese per fare chiarezza su quanto avvenuto e per gli opportuni provvedimenti basta con questo clima di terrorismo psicologico. Fin qui il leghista siciliano, ma da Agnone è arrivato immediatamente il chiarimento da parte del sindaco Saia che ha spiegato che è vietata solamente la partecipazione dei fedeli e non la celebrazione delle funzioni religiose. Alla fine niente di nuovo, quando si tratta di fare propaganda politica ogni scusa è buona, anche le decisioni di un sindaco che combatte contro la diffusione del Covid-19 blindando la sua città. Cambiamo argomento, siamo alla giudiziaria, al via oggi la maxi udienza preliminare dell'operazione antidroga Piazza Pulita. Davanti al GUP Veronica Dagnone 15 imputati per i quali si dovrà decidere se rinviarli a giudizio per garantire l'udienza disposte robuste misure di sicurezza. I difensori hanno sollevato diverse eccezioni. Il servizio è di Tonino Danese. Le due aule più grandi tra cui quella della Corte d'Appello e l'atrio tra esse lo spazio utilizzato in tribunale a Campobasso per la maxi udienza preliminare che vede 45 imputati della più imponente operazione antidroga condotta in Molise denominata Piazza Pulita. Il giudice Veronica Dagnone presenti il procuratore capo Nicola D'Angelo alla guida della direzione distrettuale antimafia del Molise e il sostituto Vittorio Gallucci con le loro richieste di rinvio a giudizio. Alcuni avvocati tra cui Giuseppe Fazio hanno sollevato eccezioni per quanto riguarda difetti di notifica. Difensori che dunque si sono presentati in tribunale con le proprie istanze anche per eventuali riti alternativi per garantire l'udienza, misure di distanziamento stringenti, sanificazioni continue, controlli all'ingresso, misurazione della temperatura e negli spazi del tribunale solo avvocati arrivati anche dalla campania, gli imputati presenti, magistrati e forze dell'ordine vigilantes per garantire la sicurezza diversi, gli schermi disposti nelle aule e nell'atrio con collegamenti Skype dal carcere a distanza per chi non è in tribunale. Gli indagati, molti ancora in carcere o agli arresti domiciliari, sono chiamati a rispondere a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, spaccio, estorsione anche con l'aggravante del metodo mafioso, porto abusivo di armi, trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro e beni di provenienza illecita. L'operazione Piazza Pulita a maggio dello scorso anno con carabinieri e guardia di finanza coordinati dalla DDA e dalla procura di Campobasso permise di sgominare un'organizzazione criminale con decine di affiliati e con a capo un esponente di spicco della camorra. Molte le misure cautelari in carcere ai domiciliari, diversi poi gli indagati a piede libero, si bloccò un tentativo di infiltrazione e molise di esponenti della mala campana pronti, è quanto emerso dalle indagini, ad affermare il proprio status anche con le armi e la violenza pur di mettere le mani sulla nostra terra. La base logistica a Boiano dove viveva il capo dell'organizzazione che aveva anche costituito due società con l'intento di farvi confluire i proventi dei suoi affari. A fare da paravento un'azienda per il commercio di pellet in cui riversava il denaro proveniente dallo spaccio di droga. Due giovani ieri sera, poco prima della chiusura, sono entrati nella tabaccheria del borgo di Termoli. Con il volto coperto dalla mascherina hanno aggredito il titolare. Uno dei due rapinatori lo ha colpito anche con una bottiglia. In pochi istanti si sono impossessati dei soldi all'interno della cassa e sono scappati le furtive di poche centinaia di euro. Il tabaccaio non ha riportato serie conseguenze. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Termoli. E si è conclusa un'indagine del nucleo operativo di protezione ambientale della Capitaneria di Porto di Termoli sotto il coordinamento della Procura di Larino. E' stato accertato che il titolare di un autolavaggio, privo di ogni autorizzazione, effettuava lo scarico dei reflui di operazione di lavaggio direttamente nella condotta delle acque chiare che confluiva a sua volta in un vicino torrente. Inoltre aveva stoccato in modo del tutto incontrollato un certo quantitativo di fanghi e sabbie. Tutti gli impianti sono stati sequestrati. E a Venafro i cittadini non devono fare i conti solo con le restrizioni e i contagi del Covid-19. C'è un'altra emergenza che li affligge ed è quella dell'inquinamento ambientale. Dopo una fine dell'anno in cui sono stati battuti tutti i record per le polveri sottili è arrivato un febbraio ancora più catastrofico. Il servizio è di Enzo Di Gaetano. L'inquinamento non dà tregua a Venafro, ne sembra servire a qualcosa il blocco del traffico pesante. La centralina di Via Campania continua a dare segnali pessimi, con il PM10 al triplo del limite consentito da dieci giorni consecutivi. Una situazione d'allarme rosso. La centralina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale di Via Campania ha segnalato giovedì 25 febbraio il ventunesimo sforamento da inizio anno del limite massimo consentito per le polveri sottili. Gli sforamenti del PM10 dal 16 febbraio al 25 hanno seguito un andamento impressionante da 66 a 149 unità per milligrammo su un tetto massimo consentito di 50. Solo mercoledì 24 febbraio la centralina con 144 ha registrato un livello di polveri sottili pari quasi al triplo consentito. A poco o niente sembra essere servita l'ordinanza di limitazione al transito dei mezzi pesanti su Via Colonia Giulia. Intanto si continua ad aspettare lo studio epidemiologico affidato al CNR di Pisa. Una lotta impari, le polveri corrono, lo studio va a rilento. Anche a dicembre si era registrato un'impressionante progressione del valore del PM10 fino allo sforamento numero 50 del 23 dicembre che aveva fatto registrare un valore di 119 con un limite massimo fissato sempre a 50. La relazione dell'ARPA parla fin troppo chiaro. Il materiale particolato presente nell'area, si legge, è costituito da una miscela di particelle solide e liquide che possono rimanere sospese anche per lunghi periodi. Le particelle sono costituite da una miscela di elementi quali carbonio, piombo, nichel, nitrati, sorfati, composti organici, frammenti di suolo e altro. E ancora, il PM10 particolato è una polvere inalabile, ovvero in grado di penetrare nel tratto respiratorio superiore, naso, faringe e laringe. Scadrà il 31 marzo il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola relative al 2020. A ricordarlo è il patronato Epaca Coldiretti che invita gli operatori agricoli che hanno avuto un contratto a tempo determinato a prendere contatto con i propri uffici delle sedi di Campobasso di Sernia, al fine di verificare i requisiti e la posizione contributiva necessari alla presentazione delle istanze. Macchia Godena in 3D. Questa sera alle 20.30 sulla pagina Facebook del Comune sarà presentato il progetto di promozione e valorizzazione del territorio messo in campo dall'amministrazione comunale per spingere il paese verso un turismo innovativo. Ce ne parla Barbara Fino. Un'esperienza immersiva tra le bellezze di Macchia Godena con lo spettatore al centro della scena. Si tratta del video realizzato da Incas Produzioni per l'amministrazione comunale e che questa sera verrà presentato attraverso i social a tutta la popolazione. Valorizzazione e promozione del paese attraverso un tour virtuale capace di attrarre lo spettatore verso la bellezza di questi luoghi. Abbiamo sempre ritenuto e sostenuto che la rinascita dei nostri borghi non può che passare attraverso il turismo. Un turismo di qualità lento, culturale e sostenibile. Abbiamo voluto dotare il Comune di un videodocumentario di ultima generazione che verrà proprio presentato appunto questa sera alle 20.30 sulla nostra pagina Facebook. Un progetto innovativo che ha raccolto subito gli entusiasmi dell'assessorato alla cultura del Comune di Macchiagodena che ha fatto della promozione turistica una sua mission. Il video è stato realizzato in una nuova versione, quella a 360 gradi, che sarebbe un'immersione nella realtà virtuale. Verranno poi infatti realizzate due postazioni, una nel castello e una nella casa comunale, dove verranno posti dei visori tramite i quali si potrà vedere questo video. Un paese social e ambito dal turismo slow, alla ribalta della stampa per le panchine letterarie immortalate e taggate in centinaia di scatti. Due in particolare sono dedicate al poeta fiorentino Dante Alighieri, a cui è dedicato un ulteriore progetto. Il 2021 è il 700esimo anniversario della morte di Dante e intorno a questa data abbiamo voluto realizzare un progetto, un progetto che si chiama La Divina Commedia in Cento Borghi. Un progetto molto ambizioso che parte proprio qui da Macchiagodena e che consiste nella recita con la collaborazione di un attore teatrale, Matteo Frat Arcangeli, che è anche l'ideatore del progetto, che prevede appunto la recita in cento diversi borghi d'Italia. Quindi il comune di Macchiagodena si propone di andare a visitare questi cento borghi d'Italia in ognuno dei quali si andrà a recitare un canto e la Divina Commedia. E ora parliamo di una iniziativa promossa dal liceo scientifico Romita di Campobasso. Gli studenti di alcune classi hanno incontrato in videoconferenza l'autrice di un libro che parla del Molise. Nonostante il Covid, l'attività didattica e dei laboratori dunque non si ferma. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Il Covid non frena le attività didattiche del liceo scientifico Romita di Campobasso. Anche attraverso lo schermo di un computer, il legame tra insegnanti e studenti rimane vivo e produttivo. Non si ferma la didattica e non si fermano neppure le attività dei laboratori, tra i quali quello della lettura, che ha visto protagonisti gli studenti di alcune classi dell'istituto, che si sono confrontati sul libro La strada da fare in cammino nella regione che non c'è, scritto da Maria Clara Restivo, ambientato in Molise. Ne è nato un incontro vivace ed interessante a tutto campo, tra i ragazzi e l'autrice. Instancabile il lavoro delle insegnanti coinvolte nel progetto. È un'idea sicuramente del Dipartimento di Lettere. Ecco, gli studenti hanno letto un libro, parliamone di questo libro, perché poi hanno incontrato l'editore e l'autrice. E l'autrice, sì sì. Allora il libro, che è questo, è La strada da fare in cammino nella regione che non c'è. Ha avuto una prima pubblicazione nel 2017, però già è una seconda ristampa. La casa editrice è la Neo Edizioni. L'autrice è un'autrice giovanissima, ma ricca di intelligenza e insomma, voglia di fare. Le tematiche dell'incontro sono state assolutamente varie. Abbiamo parlato del viaggio come condivisione e quindi condividere un viaggio con un'altra persona o affrontarlo in solitudine. Abbiamo presentato dei percorsi, quindi delle mappe ricavate dalla lettura del viaggio e in due versioni, sia digitale che manuale. Poi abbiamo letto dei testi, abbiamo considerato che cosa sia necessario se si decide di intraprendere un viaggio a piedi. Poi invece nell'ultima parte l'incontro è stato molto più partecipativo perché siamo andati al vivo del confronto, quindi sono state rivolte domande che riguardavano la nostra regione e quindi abbiamo cercato di dare gloria alla nostra regione e che cosa della nostra regione? I suoi sapori, quindi l'accoglienza della gente molisana e la natura del Molise, per cui tutto nell'ordine proprio dell'autenticità. Questa emergenza non ci ferma, non ferma la scuola. Di conseguenza, accanto al percorso curricolare, continuiamo a offrire iniziative di approfondimento e arricchimento ai nostri studenti, come per l'appunto questa di cui stiamo parlando, che ha visto il coinvolgimento di sei classi del biennio. Gli incontri con l'autore rappresentano il valore aggiunto di queste iniziative, in quanto ragazzi che abitualmente si confrontano con i docenti, hanno possibilità di collocare direttamente con la persona che li ha introdotti in un nuovo contesto, in un nuovo mondo e nonostante il Covid, come abbiamo detto giustamente in premessa, le nuove tecnologie ci danno la possibilità comunque di pervivere queste esperienze ai nostri ragazzi e continuare a lavorare in questa prospettiva, con l'auspicio al più presto di poter in presenza anche continuare a offrire queste opportunità. Bene, con questo servizio ci fermiamo, adesso ci sono le previsioni del tempo, poi il telegiornale sportivo. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana. Arrivederci. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana.